Un tavolo da stiro perfettamente stabile, con una superficie ellittica molto ampia che permette di utilizzare entrambi i lati della sagoma a spalla ed è perfetto anche se si desidera stirare da sedute. Puoi lasciare tranquillamente il ferro sul tavolo da stiro poiché è dotato di un'aria di appoggio termoresistente senza il rischio di lasciare macchie di bruciatura sulla fodera. Questo tavolo da stiro intelligente possiede un blocco di sicurezza che previene la chiusura accidentale, un dispositivo indispensabile quando si hanno dei bambini piccoli. Inoltre questo blocco evita che il tavolo da stiro si apra quando non vuoi. Il piano da stiratura misura 135 per 45 centimetri nei punti più larghi. L'ampiezza permette una maggiore facilità di stiro e l'altezza è sempre regolabile da 61 a 102 centimetri. La fodera è sempre tesa e perfettamente adattabile. Sono inoltre disponibili eleganti fodere sostitutive.